Direi che un mix perfetto che ha portato a successo nuovamente questa manifestazione. Torniamo a procetta quest'anno insieme, lo scorso anno, in collaborazione con lo sport di Prosta per ricordare Daniele Cassano. Questo è il 13 su memoria, io farei un applauso a questo ragazzo accanto a prima cosa. Io prima di incominciare la premiazione di venerdì, farei un applauso a voi giocatori, dirigenti e tutti coloro che hanno fatto da qui. C'è di caldo che hanno dato l'attività che hanno, sicurezza, ha portato la squadra fino all'infinale. Per me, rompettino, Fabio Quartaleo. Videogiocatore, ha fatto la differenza, continuo, mille numeri viaggi, Colino Roberto. Grazie per la fronata. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.